Ciao, astronomi! ECHO è il nostro controllo computerizzato ambientale per automatizzare il potere di potere del calcio di calcio quando collegato con l'Eagle e viene con una piattaforma molto buona che ti permette di usare per supportare un telescopio guida compatto. Vediamo come! L'ECHO è completamente scoperto di alluminio e nell'altra parte viene con due fili di M6. Questo ti permette di installare in parallelo il supporto di guida per l'ECHO e lo usare per supportare un telescopio guida compatto. Questo è come lo faccio. Il supporto di guida per l'ECHO è composto da due guida più di 80 mm e la piattaforma. Poi connessi le guida con la piattaforma rosso con le screvi che ci sono state. In questo modo ascegliate il supporto di guida per l'ECHO. Ora connessi il supporto di guida per l'ECHO con la piattaforma con le due screvi che trovate nella piattaforma. Oltre che il guida compatto di guida compatto viene con le guida più di guida, se già avete l'ECHO e il guida, per connessi li puoi comprare il piattaforma chiamato ECHO Super Minus PL. Puoi connessi l'ECHO a una piattaforma standard Vixen style Thunder shoe, poi puoi inserire il tuo guida e usare l'ECHO per supportarlo. Per più contenuti che ti aiutano a esplorare l'università come un pro, iscrivetevi al nostro canale e... CLEAR SKYS! A presto! 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 A presto!